Vedete che le incidenze, la colonna in mezzo sostanzialmente, mostra come a livello del Paese oggi, a ieri sera, quindi prendendo da venerdì scorso a ieri sera l'incidenza di 239 casi per 100.000 abitanti nei sette giorni, in calo, lieve calo però, rispetto alla settimana scorsa, dove vi ricordate era 247, quindi sta decrescendo, ma la caratteristica di questa decrescita è molto lenta. Parallelamente abbiamo riportato anche il numero di tamponi per 100.000 abitanti, che dà un'idea di quanto le diverse regioni utilizzano il tamponamento e vedete in questo caso la percentuale di positività che avete peraltro visto riportata anche nella mappa che vi ho mostrato prima.